Sistiamo a un'alluvione quotidiana di parole, di proposte di cui si conosce poco nel merito e pochissimo rispetto alla capacità di mobilitazione di risorse. Una cosa è certa, l'abbiamo ascoltata ieri e siamo rimasti molto colpiti negativamente. L'annuncio del Ministro Marianna Madia ci dice che questo governo da un lato finge di dare e dall'altro toglie. Per il prossimo anno 5 milioni e mezzo di lavoratori del pubblico impiego resteranno di nuovo senza contratto. Sono passati cinque anni. Io credo che su questo terreno la mobilitazione dovrà essere forte. Non possiamo più accettare solo un profluvio di chiacchiere.